Coach Tomasello, una partita difficilissima, sembrava in discesa dopo i primi due set, poi c'è stato il rientro dell'avversario e questo dà ancora più credito alla vittoria appunto di questa sera della tua squadra. Sì, sapevamo che Macerata, soprattutto in casa, non molla niente. Siamo stati più cinici i primi due set, poi abbiamo lasciato andare un po' di roba. Sì, spesso ci accade alla fine del set del terzo di fare questo, dovremmo migliorare su questo aspetto qui, però stasera non posso che dire grazie ai tutti i miei giocatori, alla mia società, ai miei tifosi perché ci hanno regalato un sogno chiamato Coppa Italia. Abbiamo dato tutto, io sul 20 pari al quarto set ho detto ai ragazzi, ragazzi ora la si vince col cuore, non c'entra più la tecnica, la tattica, ora la si vince col cuore. Boh, non lo so, me lo sentivo, ho visto degli sguardi, li ho guardati negli occhi e lo sapevo, lo sapevo, me lo sentivo perché ormai li conosco un po' questi ragazzotti e ho visto, ho avuto una good vibes. Bella questa, ti è piaciuta, good vibes. In ogni caso, ho sentito prima che stavi parlando il fatto di aver perso alcune partite, vi ha dato la carica, vi ha forgiato per essere la squadra che siete ora, cosa ne pensi e cosa pensi in prospettiva della fine del campionato? Ma assolutamente, ma ragazzi bisogna passare per certi momenti, poi siamo una squadra nuova e forgia, aiuta, come nella vita, passare nelle difficoltà nei momenti bui, aiuta, fa gruppo, fa squadra. È giusto così, io è da sempre che lo ripeto, ora spero che anche chi magari aveva un po' più di ansia se ne sia convinto, ma capisco anche chi comunque era preoccupato. Ci sta, è normale, ci teniamo tutti, però va bene, c'è una squadra che è venuta fuori e va bene così.